In vista dell'Expo 2015, nutrire il pianeta, indubbiamente il Friuli Venezia Giulia può esprimere delle eccellenze straordinarie, è importante connettersi in rete per far conoscere tutti i nostri prodotti, anche il territorio e la storia, la cultura da cui queste eccellenze derivano, nel nostro caso la grappa sicuramente è così vicina a quella che è la civiltà contadina, i miei genitori sono riusciti a farla apprezzare in tutto il mondo e quindi sarà un onore e anche una sfida poterla presentare all'Expo 2015 per far capire al mondo come l'eccellenza italiana intorno alla tavola, intorno a un buon vino può essere un momento conviviale ma anche di scambio, di scambio di idee, di confronto per la crescita di un mondo più ecosostenibile.